Buongiorno a voi, a dire il vero, a dire il vero, a dire il vero ero già qua da un po' che stavo parlando con i bambini prima della vostra splendida entrare, la vostra vista, ma dov'è la vostra bicicletta? Noi, bellissimo, andiamo sempre io e lui, sempre insieme in baci, sempre in due, bello Sempre in due, e chiamiamo la lotteria, è fitto il numero 42, la ruota della fortuna, la fortuna, la fortuna, la fortuna Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno! Cosa è? Una poppa! Una poppa! Siiii! E non potrei anche la vede, è una poppa di Santa Maria! Ahahahahah! Lei è la mia!